Ciao amico visionario, amico di Visionaire.fm, io sono Lauretta Buffa e questo è un nuovo appuntamento con le Vision News. Oggi parliamo di grandi ritorni in vista per gli amanti dei telefilm di fantascienza della prima ora, diciamo così. Dal 30 ottobre sarà infatti disponibile su RaiPlay la serie Cult Spazio 1999. Gli episodi vengono proposti in HD e con l'audio restaurato nelle versioni in italiano e in inglese. Chi ha la possibilità di partecipare al Look at Comics and Games il 29 ottobre potrà godersi in anteprima la prima puntata, perché ancora non la conoscesse, e siete in pochi ve lo dico, la serie racconta le vicende della base lunare Alpha. In seguito ad una violenta esplosione la Luna si distacca dall'orbita terrestre e da quel momento inizia un'odissea nello spazio per trovare un nuovo pianeta sul quale ricominciare a vivere lontano dalla Terra. Spazio 1999 era coprodotta dalla Rai e dalla britannica ITC, oggi ITV, e realizzata dai coniugi Jerry e Sylvia Henderson e fu una delle produzioni più costose degli anni 70 anche per via della cura degli effetti speciali, davvero all'avanguardia per l'epoca, che vennero affidati allo stesso gruppo che aveva collaborato con Kubrick per realizzare 2001 Odissea nello spazio. Se siete curiosi di scoprire altre novità dal mondo del cinema e delle serie TV, vi aspetto sul sito visionaire.fm oppure seguitemi sul canale YouTube, su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Alla prossima Vision News, buon cinema a tutti!